In occasione dei mesi estivi nel corso dei quali in tanti raggiungono la città di Agropoli per trascorrere un periodo di vacanza ma anche aggiovamento degli abituali fedeli si porta a conoscenza della modifica degli orari di tutte le celebrazioni feriali e festive che si tengono nelle diverse chiese del territorio agropolese. Presso la chiesa Madonna di Costantinopoli gli orari feriali saranno dalle 19 e 30 mentre per i festivi le sante messe verranno celebrate alle 8 e 30 e alle 21 e 15 mentre per quanto riguarda l'ultima domenica del mese la santa messa sarà celebrata alle ore 21 e 15 presso la chiesa madre per quanto riguarda la chiesa di san francesco ad agropoli per i giorni festivi la messa sarà celebrata alle ore 20 presso la chiesa sant'antonio invece il martedì alle ore 19 e per i giorni festivi la messa sarà celebrata alle ore 19 nella chiesa santa maria delle grazie per i giorni feriali le sante messe saranno celebrate alle ore 8 e 30 del mattino e alle ore 20 per i festivi alle ore 8 alle ore 9 e 30 12 19 20 e 21 presso la chiesa san valeriano per i giorni feriali la messa sarà celebrata alle 8 e 30 mentre per i festivi le messe saranno celebrate alle ore 7 e 30 e 9 e 30 presso la chiesa sacro cuore per i giorni feriali le messe saranno alle ore 19 e 30 per i festivi alle ore 11 19 e 30 e ore 21 alla chiesa madonna del carmine invece per quanto riguarda i giorni feriali le messe saranno celebrate alle 18 e 30 mentre per i giorni festivi alle 8 e 30 e alle 18 e 30 infine presso la chiesa madonna della pace il sabato alle ore 17 e 30 e per i giorni festivi alle ore 20 e 30 alle ore 20 e 30 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 e 30